Ciao amici, eccoci a una nuova puntata delle nostre videoconsulenze. Vi ricordo ancora una volta il numero in sovrimpressione per mandarmi le vostre video domande. In queste vi dovrete riprendere con il cellulare e mi dovrete porre il quesito. Me lo manderete via WhatsApp e io vi video risponderò su questo stesso canale. Ah, non dimenticate la parola d'ordine, questa è la legge. Salve avvocato, mi è capitato di trovare in alcuni contratti che mi sono stati proposti per lavorare delle clausole dove si parla di una penale da pagare da parte del dipendente nel caso in cui dovesse dare le dimissioni anche se per giusta causa e con preavviso. Mi domandavo se questa clausola, seppur inserita in un contratto, risultasse effettivamente regale. Questa è la legge. Innanzitutto bisogna comprendere in che forma sei stato assunto, se cioè con contratto esterno o con il tradizionale lavoro dipendente subordinato. La soluzione al quesito dipenderà proprio dal tipo di accordo che hai concluso. Ecco perché dobbiamo distinguere le due ipotesi trattandole in modo separato. In sintesi, la questione comunque si risolve nel seguente modo. La penale per il recesso anticipato è legittima solo nei contratti di lavoro subordinato a termine o nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anch'essi a tempo determinato. Nei contratti a tempo indeterminato, invece, è sempre illegittima una penale. Allo stesso modo è illegittima la penale nel caso di dimissioni per giusta causa, anche se si tratta di un contratto a tempo determinato. Ma procediamo con ordine. Potrebbe succedere che l'azienda abbia instaurato con te un semplice contratto di collaborazione esterna, coordinata e continuativa. Oggi si chiamano COCOCO. Oppure una qualsiasi altra forma contrattuale. In queste ipotesi, i rapporti tra te e la ditta saranno regolati in base agli accordi negoziali contrattuali e quindi sulla scorta delle clausole contenute nel contratto. Di solito, nei contratti di durata, quelli cioè che prevedono prestazioni prolungate nel tempo, per evitare che una delle due parti receda dall'oggi al domani, lasciando così l'altra senza la prestazione, viene previsto l'obbligo di un preavviso. La legge lascia libero il firmatario di fissare la durata del preavviso secondo le proprie intenzioni. L'importante è che questa durata non comprometta la facoltà del libero eccesso dal contratto, che è inviolabile. Sarebbe del resto illegittimo, ad esempio, un preavviso di due, tre, cinque anni. Per evitare poi che una delle parti sia inadempiente all'obbligo del preavviso, viene prevista una penale, ossia una somma di denaro da pagare a carico di chi non rispetta gli accordi. Anche la penale non può essere eccessivamente elevata rispetto all'economia del contratto, tanto da magari disincentivare il recesso. Non bisogna pagare alcuna penale nel caso in cui il recesso dal contratto avvenga per giusta causa, ossia per inadempimento dell'altra parte, ad esempio il mancato pagamento delle prestazioni lavorative. Rispettato il preavviso, non si può comunque imporre il pagamento di una penale, perché nessuno può essere obbligato a restare vincolato a vita a un contratto. Quindi il recesso, seppur col preavviso, deve essere libero. Secondo la Cassazione, è legittima la clausola penale contenuta nel contratto di collaborazione continuativa. Le parti sono quindi libere di prevedere il recesso anticipato di una delle parti e l'obbligo del preavviso o, in caso di mancato preavviso, il pagamento della penale. Chiaramente quest'obbligo non vale più quando il recesso è determinato da una giusta causa nella cui ipotesi è possibile risolvere il contratto anche senza preavviso e senza pagare la penale. Per i contratti di lavoro dipendente subordinato funziona più o meno nello stesso modo, con l'unica differenza che la durata del preavviso è fissata dal contratto collettivo nazionale di riferimento e la penale in questo caso si chiama indennità sostitutiva del preavviso. Vediamo cosa stabilisce la legge. Nel caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra la comunicazione delle dimissioni del dipendente e il momento effettivo della cessazione del rapporto, vi deve essere un periodo di preavviso durante il quale il contratto di lavoro viene eseguito regolarmente. In altre parole, durante questo termine il dipendente deve andare in azienda a lavorare e il datore gli deve regolarmente pagare lo stipendio. L'obbligo di preavviso è escluso solo per le dimissioni per giusta causa, determinate cioè da un comportamento illecito del datore di lavoro. La durata minima del preavviso è fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma il contratto individuale può stabilire per le dimissioni un termine di preavviso più lungo, ma solo se tale facoltà di deroga è prevista dallo stesso contratto collettivo. Il lavoratore è libero però di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro senza dare preavviso. In tal caso però dall'ultima busta paga gli viene trattenuto un importo, fissato anche questo dal contratto collettivo, che viene chiamato indennità sostitutiva del preavviso. Se invece il dipendente si dimette dando il preavviso, l'azienda può rinunciare al preavviso stesso senza pagargli la relativa indennità. Questo è almeno l'ultimo orientamento della Cassazione. Se al dipendente viene fatta firmare la clausola di stabilità con cui si impegna a non dimettersi entro un certo termine, è legittima la previsione di una penale in caso di dimissioni anticipate, ma la penale non può essere applicata se le dimissioni avvengono per giusta causa. Inoltre il patto di stabilità deve essere appositamente remunerato dal datore di lavoro. Nel contratto di lavoro dipendente a termine o, più comunemente detto, a tempo determinato, il lavoratore è più vincolato a rispettare la scadenza del contratto. La legge infatti gli consente di presentare le dimissioni prima di tale data solo se c'è una giusta causa che non consente la prosecuzione del rapporto. Si deve, cioè, trattare di una grave violazione del contratto da parte del datore di lavoro, come ad esempio il mancato pagamento di almeno due stipendi, il mobbing, le aggressioni, il trasferimento illegittimo, il demanzionamento, le violenze sessuali e così via. È assolutamente illegittima la clausola del contratto che fissa una penale a carico del dipendente che si dimette per giusta causa, essendo questo un suo diritto. Anzi, in tale ipotesi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinato in misura pari all'ammontare delle retribuzioni, che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista, a meno che nel frattempo il dipendente non abbia trovato un'altra occupazione. Non gli è comunque dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. Se invece non c'è una giusta causa, il dipendente non può dimettersi prima della scadenza del contratto, neanche dando il preavviso. Nel contratto a termine, infatti, non è previsto il preavviso. Cosa rischia allora il dipendente a tempo determinato che si dimette senza giusta causa? Secondo la Cassazione, in caso di dimissioni senza giusta causa del dipendente a termine, questi commette un palese inadempimento contrattuale, ed è pertanto tenuto a versare il risarcimento integrale del danno provocato al datore di lavoro, da quantificare secondo le norme comuni e non nella misura indicata dal Codice Civile per il recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ecco, solo in questi casi, ossia di dimissioni da un contratto a tempo determinato senza per una giusta causa, è legittima la previsione di una penale. Particolari disposizioni possono comunque essere previste dai contratti collettivi nazionali. E abbiamo terminato anche questa videoconsulenza. Ancora una volta il numero in sovrimpressione per inviarmi le vostre videodomande e non dimenticate mai la parola d'ordine. Questa è la legge! Questa è la legge!